Buonasera da Index, puntata interamente dedicata alla piazza finanziaria ticinese. Sappiamo che l'intera piazza finanziaria svizzera è in una fase abbastanza cruciale di transizione, sappiamo che ci sono in atto molti cambiamenti, sappiamo che c'è stato a livello svizzero nel complesso un parziale ridimensionamento rispetto ad anni passati della piazza finanziaria svizzera, che però rimane certamente un ramo importante e robusto dell'economia svizzera e del sistema paese più in generale. Ebbene in Ticino si aggiunge a queste tematiche che riguardano tutta la piazza finanziaria svizzera anche la tematica specifica di una piazza sin qui legata particolarmente ad un mercato, che è quello, lo sappiamo, vicino geograficamente italiano, una piazza particolarmente legata sin qui ad alcune attività che sono quelle del private banking, della gestione di patrimoni privati e poi delle attività finanziarie comunque collegate a questo comparto robusto in Ticino. sin qui sappiamo che queste sono particolarità che appunto si aggiungono alle tematiche più complessive della finanza con targa elvetica. Ma appunto fissando i riflettori sul Ticino, sulla piazza ticinese, vediamo che appunto ci sono questi temi specifici che vanno affrontati oggi più che mai. E sappiamo anche che ci sono dei capitoli nuovi in ordine di tempo che si aggiungono, ci sono gli accordi fiscali, il superamento del segreto bancario, almeno per quel che riguarda i clienti stranieri non residenti. Sappiamo, ed è storia recente, che c'è una diversa situazione del franco-svizzero dopo la decisione della Banca Nazionale Svizzera di togliere la soglia di cambio di 1,20 nel rapporto euro-franco. Il Ticino all'interno della piazza finanziaria svizzera ha certamente delle particolarità, quindi in parte ha le tematiche di tutta la Svizzera, ma in parte ne ha di sue specifiche di tematiche e vanno sicuramente viste da vicino in questa fase di transizione molto importante. non ci sono i punti, i picchi alti della piazza finanziaria ticinese che abbiamo visto in passato. Sappiamo che c'è stato un certo ridimensionamento per quel che riguarda le strutture di organici, ma sappiamo che quello che si dice per la Svizzera vale, seppur in chiave diversa anche per il Ticino, cioè che anche in Ticino la piazza finanziaria, le attività finanziarie, nonostante questo parziale ridimensionamento, comunque restano importanti. Allora si tratta di vedere da vicino che cosa sta accadendo e che cosa potrà accadere.